Guidare e all'improvviso essere costretti a schivare un ostacolo. Non è mai piacevole ma diventa un incubo se la strada risulta sbarrata da un muro d'acciaio come un tir di 18 metri. È la scena che si è presentata da alcuni automobilisti sull'autostrada della Cisa tra la Spezia e Parma. Alcuni giorni fa un camionista giunto in prossimità del casello di Pontremoli si è fermato in corsia di emergenza. Il conducente aveva sbagliato strada e doveva tornare indietro, aveva fretta e non sapeva come risolvere il suo problema. A un certo punto per immettersi nell'altro senso di marcia si è buttato a sinistra riuscendo a infilarsi con il tir in un piccolo spazio vuoto all'altezza del divisorio tra le due carreggiate. Manovra da codice penale poiché mette a rischio la vita degli automobilisti in transito. Non contento, il camionista si è fermato per qualche secondo in mezzo alla carreggiata, assestandosi meglio e attendendo l'attimo favorevole per ultimare la sua scelerata manovra. Appena il muso del tir è comparso sul versante opposto, gli automobilisti che sopraggiungevano non potevano credere ai loro occhi. Pur terrorizzati, sono riusciti a non perdere il controllo della situazione, schivando il camion o frenando per tempo. L'allarme è giunto alla centrale operativa della Polstrada di Massacarrara, allertata dagli automobilisti. L'uomo, trentenne nato in Romania, è stato riconosciuto dagli investigatori che hanno visionato le immagini registrate da una telecamera orientata proprio su quel punto della 15. Il camionista è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti. Gli agenti lo hanno anche sanzionato, fino a 8.000 euro, attivando nei confronti dell'uomo la procedura per revocare la patente di guida. Il tir non potrà circolare per tre mesi.